FCA, già leader in Italia e in Europa, continua nella valorizzazione della mobilità sostenibile. Come si esplicita questa strategia? Principalmente attraverso accordi di partnership con aziende lungimiranti da un punto di vista di coscienza ecologica, come appunto il caso di Italgas oggi, che ha deciso di convertire al 100% la propria flotta in automobili a metano. Il metano è la tecnologia più pulita oggi disponibile e crediamo importante proseguire con scelte di collaborazione di questo genere. Vale la pena rimarcare che la decisione di Italgas è particolarmente degna di merito, perché è una conversione al 100% della loro flotta in automobili a metano.